Grazie Presidente, devo intervenire perché il consigliere Figliomeni dovrebbe sapere che abbiamo tenuto una commissione lavori pubblici proprio sui riscaldamenti ERP organizzata da noi ma dove io ho detto chiaramente che mentre noi organizzavamo era arrivata anche la sua richiesta per una commissione e siccome il tema è molto sentito e sappiamo benissimo che ci sono dei disagi negli immobili ERP sui riscaldamenti abbiamo fatto subito questa commissione dove erano presenti diversi cittadini soprattutto del quinto municipio, anche consiglieri c'erano presenti assessori del municipio, insomma gli uffici eravamo in tanti. Stiamo lavorando sui riscaldamenti ERP, già alcune caldaie sono state accese, la problematica è che ci sono caldaie vecchie di 50 anni lo devo dire, mai nessuno ci aveva messo le mani sopra, mai nessuno aveva pensato di cambiarle e quindi stiamo provvedendo a cambiarle, su 12 già siamo in sostituzione su più della metà il problema è che quando cambi la caldaia scoppia magari il tubo come è successo ad esempio a Via Pisino dove è montata la caldaia sono scoppiati i tubi e sono scoppiati i tubi anche nel sottofondo stradale quindi a questi si aggiungono altri lavori oppure ad esempio i bruciatori non partono oppure scoppia la pompa che porta l'acqua questo perché è un parco vetusto e quindi noi sappiamo bene che ci stiamo trovando di fronte a questa difficoltà che comunque insieme all'assessorato, con l'assessore Ameleo, all'infrastrutture sempre presente, ogni giorno ci manda un report sono tutti attenzionati su questo problema i tecnici del Dipartimento Simo tutti i giorni lavorano insieme alla ditta che chiaramente ha in appalto il servizio la votazione sarà no ma io l'ho motivato perché ci stiamo sopra ci stiamo lavorando ci sono i tecnici venite al Simo chiedeteci invece di fare qui magari così ordini del giorno la mia porta della commissione è sempre aperta la commissione dei tecnici del Simo è sempre aperta grazie